Bando ai complimenti, noi vogliamo tre consigli pratici, veri e soprattutto per giovani per diventare in tre mosse e per giovani. Bisogna occuparsi di notizie, trovare delle notizie, scrivere queste di cronaca e trovare confronto di pubblico. Adesso invece vediamo l'esercizio opposto, cioè in tre mosse distrugga il classico ego del giornalista che un po' sicuramente infetterà anche lei per forza, in tre mosse distrugga l'elvito di Peter Gomes. Noi siamo lo specchio che rifletta la realtà, non siamo la realtà, siamo solo la realtà. Ce ne ha anche altri due? Non siamo protagonisti di quello che abbiamo, siamo dei miti, ma non siamo l'edettore. La domanda finale gliela faccio io invece. Si dice spesso, largo ai giovani, spazio ai giovani, sia dal punto di vista istituzionale ma anche nel giornalismo, no? Lei quando si ridica? Quando ho conto i rossi a 67 anni, direttando la situazione. È una promessa? No, è una minaccia.